Credibile e la tragedia invece della guerra raccontata dalla musica del pianista siriano Aemamad ha aperto la 32esima edizione della Tina Jazz Festival. Aemamad è conosciuto per aver suonato sotto le bombe nel campo profughi di Yarmouk, alla periferia di Damasco, e nelle strade delle città stremate dal conflitto in Siria. Il concerto nel chiostro del Baramante e della Bazzia di Monte Cassino ha dato il via alla Kermess del Frusinate, dedicata quest'anno alle musiche dal mondo. Tra gli artisti che si esibiranno fino al 9 agosto Fabio Concato, Petra Magoni e la regina del fado portoghese Mafalda Arnaut.